Dossier dal quale ripartire l'immigrazione al centro di un vertice a Palazzo Chigi in mattinata tra Conte, Di Maio, il ministro dell'interno Lamorgese e quello della difesa Guerini, in merito al quale oggi Zingaretti plaude all'iniziativa del premier a Bruxelles. Chiedendo il superamento di Dublino, chiedendo un coinvolgimento dei paesi membri sull'accoglienza e capendo che per difendere i confini ci vuole una politica dell'immigrazione di livello europeo. Obiettivo, serve il segretario Dem, coniugare i principi di sicurezza, umanità e legalità.